Ciao, quest'oggi faremo una piccola riunione con i miei amici. Oh, ehi, salve ragazzi, siete arrivati prima del previsto. E se mi è concesso di dir tolte uno splendido aspetto stasera? Lui è Hubert Camberdale, lei, lei Marjorie Stewart Baxter e lui Jeremy Fisher. E, e ciao! Chi sa qual è il vostro sapore? Marjorie Stewart Baxter, tu sai di polvere di sole. Hubert Camberdale, tu sai di cacca folicinosa. Avrei un po' di pesce nel forno, se qualcuno fosse interessato. Allo, Nabila, commenta pel tu, che spiglia? Aiuto, aiuto, aiuto. Oh, grazie a Dio, deve essere il cielo che ti ha mandato qui. Sto cuocendo del pesce nel forno, ma non riesco ad arrivarci. È proprio in fondo. Con il tuo piccolo e agile corpo, riusciresti a infilartici e prendermelo. È proprio sul fondo. E non so quanto ti potrò mai ringraziare per... Mi piace quando l'acqua rossa viene fuori. Mi piace quando... Quando si so. Ah, sì! Somewhere... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. There's a land that I heard of on. Io percamperte il felice di vederti qui. Oh, mi devo essere appisolato? Quel pesce sembra sia pronto.